Per Storie di Motoestate Claudio Corti, ex pilota come dice lui che non ha bisogno di presentazioni ma che ci onora della sua presenza al Motoestate. Un progetto importante per lui ma soprattutto la voglia di stare in un paddock che è la base della passione del motociclismo. Esattamente, come dici te, ciao a tutti innanzitutto, dopo soprattutto l'anno 2020 pieno di Covid è stato bello ritornare, vedere gente che non vedevo da tempo e rivedere che tutto comunque sta ripartendo in maniera più o meno normale e stare in mezzo a gente che magari non vedevo da dieci anni. Ho fatto nel 2015 una gara di Motoestate a Franciacorta, è sempre bello e poi stare nell'ambiente delle moto, come dici tu, la passione vince sempre su tutto. Quindi voglio ringraziare l'organizzatore dell'invito, non sarà l'unica data, magari ne faremo qualcun'altra sicuramente ed eccoci qui. Claudio Corti ha anticipato quella che è stata la mia domanda. Nel 2015 era con noi in sella una Kit 3, un progetto che ha abbracciato quando era nel pieno della carriera e non ha avuto nessuna remora a mettersi in gioco e provare questo tipo di moto. Perché? Perché in lui c'è la voglia, la passione di vivere il motociclismo a 360 gradi. Esattamente, lì era stato Andrea Zappa a invitarmi e io ero curioso di provare queste moto che vedevo sempre girare a Castelletto quando mi allenavo col motar. Ho detto, cavolo sì Andrea vengo a farla la gara e quella volta lì sono venuto, mi ero divertito anche molto, avevo lottato per la vittoria. Ero stato molto contento dell'esperienza e adesso mi ritrovo qui con queste piccole 300, causa anche di Bradley che abbiamo imbastito questa struttura dove facciamo coaching per piloti. Come ti spiegavo te prima, non insegniamo ad andare in moto alla gente, noi prendiamo gente che comunque in moto ci sa già andare, seguiamo la persona perché seguiamo un pilota alla volta noi durante tutta la giornata, step by step. E niente, siamo venuti qui anche un po' per pubblicizzare questa cosa. Claudio è sempre molto veloce quindi mi anticipa costantemente, quindi ha già anticipato quello che è il suo progetto. Alle spalle sue vedete Bradley che lavora, ma è veramente interessante vedere due piloti con un'esperienza MotoGP, quindi trascorso veramente importante, mettere le mani sulle moto, essere qua con una tenda con il furgone, tagliare il salame la sera. È questo il motociclismo? Sì, soprattutto lo vedi riparare perché lui è caduto e lui ripara. No, in qualifica si è fatto prendere un po' dall'emozione, era un po' che non faceva una qualifica e per stare dietro i ragazzini che vanno veramente forti, già qua anche ottimi tempi, ha fatto una scivolatina nulla di grave, adesso ripariamo la moto per domani. Sì, come hai detto te, ci piace vivere il motociclismo di una volta diciamo. Ecco Claudio, ma cosa ti aspetti da questo progetto, questa scuola che è la somma dei vostri numeri di gara? Sì, 109 è la nostra somma, 71 più 38, ci aspettiamo di trovare, no di trovare no, di seguire qualche ragazzino veramente giovane, i 14, 15, 16 anni, da portare a un metodo di lavoro professionale quale era quello che usavamo a fare noi, in MotoGP, Moto2, in Superbike, cosa che nel paddock del moto estate comunque non c'è un metodo di lavoro simile, o comunque anche in altri campionati come può essere il Civ, come può essere il National Trophy, noi non vogliamo legarci a un pilota che faccia solo quel campionato, e niente, sarebbe bello trovare un ragazzino giovane, volenteroso, che abbia voglia di lavorare duro. Claudio Gorti e Bradley Smith, una copiata italo-inglese per arrivare ai vertici del mondiale, ma cosa significa essere dall'altra parte della barricata? Stavo dicendoti che è brutto, ma non è brutto, perché alla fine quando tu vedi che c'è il miglioramento nella persona che stai seguendo, è anche, come posso dirti, aiutami tu. È appagante? È appagante, soddisfacente, quando vedi che quello che tu gli stai insegnando sta funzionando, quindi sì, certo che la voglia di competere è sempre al mille per mille, però purtroppo non c'è l'occasione giusta, quindi adesso, verso la fine della carriera, sull'orlo dei 34 anni, quindi magari creare qualcosa che può durare più a lungo, bisogna iniziare. Ma consentimi un'ultima domanda, perché un talento come Claudio Gorti a 34 anni è stato dimenticato dal motociclismo? Perché purtroppo è così, la gente dimentica in fretta.